In alto piano l'anno nuovo inizia come si era concluso quello vecchio con il pienone per il ponte dell'Epifania. La strighetta ha portato nel comprensorio un enorme volume di visitatori fra proprietari di seconde case, ospiti di alberghi e altre strutture e turisti morti e fuggi. Se per Capodanno si era parlato di almeno 100.000 presenze diffuse fra i sette comuni, le premesse per fare il bis in questo weekend ci sono tutte, complici alcune giornate di bel tempo con temperature basse che stanno consentendo il mantenimento dello strato nevoso quasi ovunque. E allora via con una discesa mozzafiato in una delle tante piste finalmente riaperte oppure con un'immersione nella natura grazie all'uscita a fondo alle ciaspole e ai percorsi per passeggiate. Per tutti gli altri resta la possibilità di una vasca in centro, una cioccolata calda e un passaggio in uno dei mercatini di Natale ancora aperti. Il rovescio della medaglia è rappresentato però dalle lunghe colonne che si formano immancabilmente. In ingresso e in uscita fra la conca centrale, il costo e la spalla che dà sulla pedemontana, con tempi di percorrenza aumentati a dismisura e parecchi disagi per la circolazione.